Ciao a tutti, oggi siamo qua di nuovo con la nostra serie, la seconda puntata della nostra serie, cioè Cucina con Leo. Allora, oggi faremo la pizza. Allora, innanzitutto dici gli ingredienti, cuoca. Olio extravergine d'oliva. Spalmato qua. Spalmato qua, l'impasto l'ho fatto questa volta integrale. Nero. Dobbiamo mantenere un po' la linea. E poi vado avanti io, c'è la mozzarella, il molto pomodoro, mettete tutto in un piattino, bastano due mozzarella. E poi un po' di olive, che me ne prendo anche una perché non resisto. Giusto per... Poi? Ah sì. Stendiamo l'impasto. Adesso lo stendiamo un po'. Guardate che bello. Dovete fare così, una macchina da guerra, deve essere. E accendiamo il forno. Quanti grade? Due e quaranta, forse, non ecco. Eh sì, duecento, duecento dieci, duecento... Sì, due e quaranta. Guardate che bello il forno. Poi lo metteremo qua. Vediamo com'è la situazione. Ho bisogno. Cosa? Che mi apri il frigo e prendi la farina e dice il mio cassetto. Quale cassetto? Cassetto della verdura. Guarda, quella butta nera. Attenzione che potrà cadere la farina. Cotto. È dura. Allora, aspettate un attimo. Alla seconda parte...